Ho visto Aquaman e il Regno Perduto La DC sta pian piano muore Anzi è già morta Solo che alcuni non lo vogliono ammettere Io personalmente non sono fan della DC Quindi io Aquaman l'ho reputato Il Regno Perduto l'ho reputato un buon film Perché non sono fan della DC Se fosse uscito Iron Man 4 E sarebbe stato una merda Essendo fan della Marvel Mi sarei parecchio incazzato e deluso allo stesso tempo Quindi la DC ormai non lo seguo da tanto tempo Mi sono veramente bloccato Dall'ultimo film che è uscito ovvero Flash Io da Flash non ho mai più visto un film della DC A parte Aquaman e il Regno Perduto Non mi sono più interessato alla DC Per nessun altro, per nessuno niente al mondo Quindi ok Aquaman e il Regno Perduto È risultato un buon film Da mangiare a pranzo per dire O a cena per dire Essendo non fan della DC Ma la DC sta pian piano morendo Se... Diciamo... Ah! Vi dico pure questo Che Aquaman è stato l'ultimo film della DC Della DC Universe Quindi... Ok Non stanno facendo un buon lavoro E l'unica cosa che posso dire A mia esperienza è Non fate cazzate Potete anche cedere Ad alcune richieste Da parte degli attori O da parte di registi Non fate gli stronzi Non fate gli stronzi Non fate gli stronzi Non fate gli stronzi Non fate gli stronzi